Oggi andiamo ad aprire i baci perugina con in collaborazione i pinguini tattici nucleari ed olodi e mi piacciono molto perché hanno i cuoricini. Andiamo ad aprirli perché adesso andiamo a leggere le frasi. All'interno del tubo troviamo 10 baci, sono costati in tutto questo 4,99 euro e ovviamente il cuore costa di più sugli 8 euro mi pare. Comunque leggiamo le poesie. Come vedete adesso i baci sono fatti in questo modo, per questa collezione ci sono i cuoricini. Andiamo ad aprirli con questa collaborazione appunto con elodi e i pinguini tattici nucleari. Sono curioso di vedere cosa hanno scritto. Prima di tutto è un bacio normale che ora vado a mangiare. Buon! Questa è la carta, molto carina. Io le conservo di solito, le carte di questo special edition. La prima poesia che trovo, vediamo qual è. Ci sono le stelline. Amavo tante cose prima di te, ora me ne basta una. Ovviamente la numero 21 di elodi e dei pinguini tattici nucleari. Nel secondo cioccolatino invece vediamo il cartiglio che sto andando a trovare. Sono curiosa. Sempre un cartiglio scritto sia da elodi che i pinguini tattici nucleari, che lo dico a fare, lo sapete. E andiamo a leggere solo il cartiglio, questa volta lo tiro fuori. Ok, il bacetto privato del cartiglio lo vado a mettere da un'altra parte così lo riconosco. Il secondo cartiglio che mi sto prestando a leggere, vedetelo. Non vedo l'ora di lasciarti l'ultima fetta di pizza per il resto della mia vita. Questa è molto simile o uguale a quella che c'è nello spot pubblicitario appunto che ho visto. Terzo cioccolatino, vediamo cosa ci troviamo all'interno. Ma anche voi aprite i baci perugina per leggerne i cartigli, specialmente di queste collezioni limitate qua con i vostri artisti preferiti, lasciando intatto il cioccolato. Così per soddisfare la curiosità e non mangiare tutti i cioccolatini, che sono molto buoni, però appunto troppo stroppia, si sa. E andiamo avanti, lo poggio un attimo qua, leggiamo. A volte ti sento cantare sotto la doccia e vorrei registrarti per poterti riascoltare nei giorni peggiori. Questa è bellissima. Era numero 13. Ah, ho detto qual era quella di prima. Era la numero 10. Terzo cioccolatino. Quarto cioccolatino, perché il terzo io me lo sono già mangiato. Quarto cioccolatino. Troviamo la poesia numero 2. E come poesia numero 2 è una poesia lunga. Un pinguino gento passa mese a cercare il sasso perfetto da regalare alla sua amata per conquistarla. Questo bacio è il mio sasso. Insomma, era numero 2. Non so che cos'è un pinguino... agento. Poi lo cercherò su internet. Comunque anche questa per gli amanti dei baci perugina è molto bella. Infatti sono perfetti per me i baci perugina. Mi piacciono molto. E non è il primo video che faccio dove leggo le poesie. Ne ho fatti ogni anno. Praticamente ne faccio uno sulla collezione di San Valentino. E non sarà l'ultimo, ovviamente. E apriamo. questo già vedo. Il cartiglio che sta uscendo fuori. Chissà se riesco a estrarlo senza aprirlo proprio. Niente, lo devo proprio aprire. Fatto. Questo mi ha ancora aperto. Più o meno. Questa poesia che ho trovato. Tra l'altro mi stanno piacendo di più rispetto a quelle dell'anno scorso. E' la numero 26. Gli ingredienti di un amore sono gli stessi di un bel pezzo. Tempo, armonia, fortuna. Si riferiscono appunto ai pezzi musicali. E poi, altra apertura di cioccolatini. Quasi quasi questo me lo mangio. Questo finisce nella mia bocca. Mmm. 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 Oh. No. Questa poesia è la numero 3 e troviamo. Sappi che un tuo semplice ti amo vale per me come mille canzoni d'amore, ma di quelle belle. Bello questo cartiglio. Ok, ancora quattro cartigli da leggere. Vediamo cosa troviamo. Questo cartiglio è corto. Gli amori saldi sono quelli dove non ci si dà mai per scontati. All'inizio gli amori non ci si dà mai per scontati. Poi cambia. Vabbè. Non mi è piaciuta. Andiamo avanti. Questo cartiglio invece ci dice. T'ho amata da subito. Tu ci hai messo un po'. Per me è stato un colpo di fulmine. Per te colpo di tuono. Numero 12. Carina. Questa è bella. mi piace. Ci sono ancora le ultime due da aprire. Vediamo all'interno cosa troviamo. questo cartiglio invece recita. Il sentimento dell'amore può essere frainteso, ma uno sguardo no. Numero 19. L'ultimissima. Vediamo cosa ho trovato all'interno. La numero 3. E te pareva ne ho trovata una doppia, però dai. L'anno scorso ne ho trovate... no, due anni fa ne ho trovate doppie di più. Questo record. Sappi che un tuo semplice ti amo vale per me come mille canzoni d'amore. Ma di quelle belle. L'avevamo già sentita. E questa è l'ultima. Ho concluso la mia apertura di Baci Perugina con un doppione. Ce ne sono state poche di doppioni in questo tubo. Praticamente ho trovato un doppione solo su dieci. Ci sta. E questo era il video di San Valentino 2021. Questi qua, i video di San Valentino, sono proprio i miei preferiti, appunto perché si mangia qualcosa di buono. E boh, vi saluto e vi rimando al mio prossimo video che chissà che altro video può essere. Ciao!